Do la parola a Clara Leri che per me, sempre per partire da questa prospettiva da signora anziana, ormai per me le prime cose che ho colletto di Clara erano il volume sugli inni sacri manzoniani, quindi è una filone che non è finito poi nella sua ricerca, perché anzi è andato avanti e Clara si è occupata molto di letteratura e musica, appunto anche della tradizione biblica con degli studi che sono stati, credo di poter dire, veramente pionieristici sulle traduzioni della Bibbia. Insomma, oggi ci parla anche, oggi diciamo, ci parla di un argomento che è legato a questa sua impostazione molto pregevole e di lungo corso, perché ci parla, il titolo della sua relazione è l'italiano per musica di Baretti. mi sono sicuramente dimenticata moltissime cose, ma mi sono concentrata sulle cose che ci interessano oggi e ti do subito la parola. Io vorrei ringraziare il comitato organizzatore di questo convegno, nella persona in particolare di Enrico Mattioda, che mi ha permesso di scegliere questo argomento, forse inavvedutamente, in quanto io non sono una studiosa di Baretti, esordisco oggi come tale, ma almeno Franco Arato mi ha, come dire, spianato la strada parlando dei rapporti con Baretti e la musica. In realtà, come ha detto anche Silvia Contarini, tutti coloro che sono venuti prima, il professor Ruffinatto, lo stesso professor Gallarati con cui ho scambiato qualche parola, hanno lasciato in me una traccia che spero appaia anche dal mio scritto. Gli intermezzi musicali di Baretti propriamente tali sono due, il Don Quixote in Venezia, a cui dedicherò la mia prevalente attenzione, e la Filippa trionfante. Gli intermezzi, come è noto, nel Settecento consistono in brevi spettacoli, per lo più di carattere buffo, autonomi e indipendenti dall'opera seria, alla quale erano dapprima legati, come accade nel caso dell'impresario delle Canarie, all'interno della didone abbandonata di Metastasio, che fu rappresentata con il suo intermezzo fin dalla prima messa in scena napoletana del 44. Il più fortunato di questi nuovi intermezzi è la serva padrona di Pergolesi, che andò in scena nel 33. Come osserva Goldoni, anche se forse Baretti non avrebbe gradito di vedere i suoi intermezzi accostati da Goldoni con una definizione molto simile ai suoi propri, dicevo, come osserva Goldoni, dalle scenette staccate di un contesto operistico si passa alle, cito, commedie abbozzate su suscettibili di tutti i caratteri più comici, se non, commenta Fido, libretti in miniatura che il drammaturgo veneziano acutamente definisce avancourer des opérats comiques italians. Due parole sulla Filippa Trionfante. La Filippa Trionfante esibisce un contrasto tra la malizia di una giovane del popolo e la dabbenaggine del suo geloso innamorato, sulla scia degli archetipi napoletani degli anni Trenta da Pergolesi ad Asse. Con il Don Quixote in Venezia questo intermezzo musicale ha in comune l'aria goldoniana, il brio dei primi drammi giocosi regolari come la Birba, la Fondazione di Venezia e il Bertoldo. Passando dunque al Don Quixote in Venezia ci accorgiamo di una passione non recente per il capolavoro Fervantino che indusse Baretti a tentarne addirittura, lo abbiamo sentito, una traduzione inglese seppure incompiuta e a discorrerne nei suoi vari scritti. Questo intermezzo si compone di due nuclei dei Fervantini, quello di Maese Pedro e della sua burattineria moresca distrutta dall'ingegnoso Hidalgo e quello più concentrato della liberazione di Dulcinea del Toboso, in realtà contadina, con le sue damigelle anch'esse contadine. Questi due nuclei appartengono entrambi alla parte seconda del Quixote e in particolare il primo è il capitolo 26 e il secondo è il capitolo X. Quando Don Quixote sbarca a Venezia intravede una donna che con la sua curiosità del mondo desidera subito intervistare. Tra la maga e trevisana che canta con la sua voce di soprano e il cavaliere errante baritono si sviluppa un duetto che rappresenta la struttura musicale dell'intermezzo. L'intermezzo barettiano deriva in realtà, oltre che dal Don Quixote, da un divertimento comico-critico è tra virgolette, che sollecita baretti prima che dalla laguna l'Hidalgo si trasferisca sulle scene inglesi a Londra verso il 52-53. Voglio dire cioè che l'avantesto del Don Quixote in Venezia nasce nella capitale lagunare e troverà il suo compimento con la musica soltanto a Londra. Questo prologo è un prologo metatestuale. Don Quixote a Venezia parla di teatro con un impresario prima ancora di incontrare la trevisana. Questo impresario è Orso Impeata. Baretti, per ordine di trevisana, l'astrologa, è immerso nel caos del carnevale veneziano e prima diviene la rovina dei burattini e poi il trastullo dei complici dell'astrologa, che al ridotto veneziano lo ingannano facendogli credere di essere le ombre dei morti Dulcinea e Sancio, mentre sono in realtà le maschere della commedia dell'arte truffaldino, brighella e pagliaccio. Come ha giustamente osservato Fido, sembra che Baretti voglia sprofondare il suo personaggio, solitamente privo di senso della realtà, in un mondo ancora più provvisorio, illusorio e charlatanesco, quello della commedia dell'arte, di cui l'autentico Don Quixote di Fervantes era stato ed è ancora la vittima. Questa origine lagunare, già suggerita da Jeunard, è ritenuta, come vi ho detto, l'ipotesi più plausibile da Fido ed è un'origine che si situa tra il 47 e il 48. Il Don Quixote in Venezia, approdato poi al King's Theatre di Londra, che è il teatro italiano, diretto dal Vanneschi, con la musica di Giovanni Antonio Giai, assume una fisionomia più che ridicola, eccentrica e distruttiva, in alternativa alla corruzione della società, quasi demistificatoria. Non a caso dalla cultura inglese Don Quixote di Baretti esce rafforzato, grazie alle letture e alla visione di alcune acqueforti di Hogarth. Le letture sono quelle di Shaftesbury e le acqueforti sono quelle che Hogarth prepara per le edizioni inglesi dell'intermezzo. L'intermezzo veneziano-londinese, ormai è possibile dirlo, è investito da un processo di appropriazione e di rovesciamento rispetto alla stessa opera di Fervantes, un processo che plasma la reincarnazione del protagonista spagnolo e enfatizza gli elementi satirici e parodici, spostando la comicità, come ha detto Quintziano, verso effetti radicalmente grotteschi. Il divertimento carnevalesco capovolge il modello cavalleresco da cui il Don Quixote in Venezia è nato. La geografia veneziana dello spettacolo è fortemente connessa all'evento del carnevale che vede esplodere il mondo alla rovescia. Questo sintagma, come è noto, rimanda alla carnevalizzazione della letteratura nell'ottica di Bakhtin, secondo cui gli ingredienti del carnevale penetrano la letteratura del serio comico dal mondo classico all'universo moderno. Manca nel Don Quixote in Venezia la coppia dell'idalgo e dello scudiero. Come può affermarsi un principio dialogico che è tipico del carnevale letterario se non c'è il doppio di Don Quixote, se non c'è Sancio Panza. In realtà il protagonista discorre sempre più con se stesso, come se trovasse nella rappresentazione teatrale un doppio ancora più decisamente forte. Il carnevale veneziano favorisce l'ambivalenza dell'identità profonda davanti allo specchio che riflette soltanto il suo volto apparente, nella sua illusorietà. Ma quando compare Don Quixote sulla piazzetta di San Marco? E' un Don Quixote forestiero che ha già viaggiato non solo in Europa, tra Spagna, Francia, Germania, ma anche nelle Americhe, dal Peru al Mississippi. E lo ha fatto per difendere l'onore della sua amata Dulcinea. Il cavaliere errante, giunto al suo approdo adriatico, avrà un incontro molto caricaturale, ma ne parleremo più avanti, con Trevisana. Così come sarà per lui decisamente travolgente l'effetto dell'incontro con le maschere. Ciò che ora mi preme di mettere in evidenza è che Don Quixote, sbarcato a Venezia, ha fatto parlare agli studiosi di teatralità eroicomica, di opera in commedia, sullo sfondo della interdiscorsività carnevalesca. In effetti l'intervento delle maschere segna la svolta dell'intermezzo musicale verso la commedia all'improvviso, così come anche la distruzione delle marionette. E' una commedia in cui contano le apparenze, le gerarchie travolte, gli equivoci con l'effetto di distrazione comica degli spettatori. Ferroni, in particolare, ha parlato di commedia all'improvviso, di tonalità eroicomica. Ed è per questo che non mi è parso inutile sottolineare l'effetto che una città come Venezia può avere sulla figura di Don Quixote di carnevalizzazione. Ed è la carnevalizzazione del cavaliere dalla triste figura che si presenta così fin dall'inizio alla maga trevisana. Oppure in due versi varianti, o che figura o che caricatura. sia nella redazione precedente sia nella redazione definitiva si mette in evidenza la stranezza del Don Quixote, che è pazzo e lo ripeterà più volte trevisana, ma che assume un carattere caricaturale. La redazione definitiva di questi versi è decisamente una redazione in cui l'alternanza già servantina di illusione e delusione si mette in opera per il cavaliere sbarcato a Venezia. L'intermezzo, tra l'altro, mostra un'ingegnosa saldatura tra l'incantesimo lagunare e la magia italica attinta alla tradizione epica rinascimentale dal boiardo all'ariosto, apprezzati anche, è ovvio, dall'autore del Chiote oltre che dallo stesso Baretti. Nel Don Quixote in Venezia, le citazioni di Alcina e di Morgana con i loro palazzi incantati che imprigionano Dulcinea si aggiungono ad altri segmenti ariosteschi ripresi con evidenza. Per esempio, la trevisana del Baretti conclude una litania di espressioni carnevalesche miste al linguaggio cavalleresco con questi versi. Or voi, brighellesca fantasma, spettro truffaldinesco, tosto sbucate fuori, le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori. Ho già detto che l'eroe Mancego, nell'originale Fervantino, convive con la sua pazzia che è inscindibile dalla sua grandezza. Nelle sue reincarnazioni teatrali e musicali che fioriscono tra sei e settecento, così come ha mostrato in un libro che è il frutto della sua tesi Iole Scamuzzi, Don Quixote non appare ridicolo, o non sempre, come ha messo in luce l'anglista Loretelli. Ma Don Quixote appare come un umorista scaturito dal rovesciamento carnevalesco della normalità quotidiana. Henry Fielding, conosciuto probabilmente a Londra da Baretti, quando Baretti decide di fermarsi nella capitale inglese e di farvi rappresentare il suo intermezzo musicale, pubblica nel 34 Don Quixote in England, dove al protagonista è attribuita la capacità di smascherare i difetti del mondo contemporaneo. L'ethos stravagante e eccentrico dell'idalgo mancego, trasferito nella cultura arguta dell'UIT, si rinnova nel libretto di Darfei, The Comical History of Don Quixote, messo in musica da Purcell. Il Don Quixote settecentesco, tra intelligenza e caricatura, raggiunge, come osserva Gallarati, la sublimazione grottesca del comico, pur nell'esigenza razionalizzatrice della struttura drammatica. Non a caso, quando il cavaliere mancego sbarca a Venezia, intuisce che si tratta della città che tiene sul suo grembo, che l'Adriatico tiene sul suo grembo. E intuisce anche che per salvare Dulcinea gli è necessario strappare all'incantato soggiorno presso il Gran Palagio della Fata Alcina, combattendo contro questo tempestoso mostro. la descrizione, l'iconografia dell'Adriatico che tiene sul suo grembo Venezia è quella ovviamente dell'istoria veneta del Bembo, ma anche del Sabellico e del Giustinian. Nell'illusoria credenza di trovarsi sull'isola di Alcina che prigioniera tiene la sua regina, il cavaliere appassionato di poemi epici comprende di trovarsi con Trevisana di fronte ad un'altra fata, anche se con lei si proclama astrologa e si irrita nel sentire invocare antica Sibilla sempiterna, al che il suo interlocutore corregge ironicamente in moderna, giovanissima Sibilla. L'attenzione di Don Quixote appare curiosa e vivace, ma dispersiva. Ogni aspetto della realtà che egli vede in una città del tutto nuova lo attrae. senza che ne offra un'esegesi del tutto conforme al vero. Così il palco dei Burattini conquista il cavaliere errante sotto la forma di un castello secondo l'architettura cavaleresca. Per giunta nel castello Don Quixote riconosce, come se fosse in trance, la tremenda torre della fata Morgana. Sto per finire. Va bene. Ancora una volta però l'illusoria certezza dell'idalgo muta oggetto. In questo caso è Trevisana ad ingannare la sua percezione della realtà per interesse personale. Chi deve abbattere l'eroe barrettiano si trasfigura in stregone, mago nemico dell'astrologa, negromante, gente marrana da precipitare nel tattareo fondo. Quando crolla la torre, in origine di Morgana, sorella di Alcina, Don Quixote celebra se stesso come guerriero non più visibile in Spagna, mentre Trevisana conclude il panegirico antifrastico del suo eroe con i versi Venezia in mill'anni un più pazzo mai più non vedrà. Nella parte seconda della stessa dello stesso intermezzo che è diviso in due parti ma si riferisce anche al secondo nucleo fervantino, il prisma fallace delle parole e delle azioni di Trevisana nei confronti del malcapitato cavaliere ha la facoltà di moltiplicarsi intorno all'ordine rivolto alle maschere di travestirsi in ombre dei defunti Sancio e Dulcinea mostrandosi al loro cavaliere. E c'è una battuta ce ne sono almeno due di battute in questa parte finale dell'intermezzo che credo valgano la pena di essere citate. Don Quixote è vinto dalla perplessità di fronte alle bugie di Trevisana che gli indica Dulcinea defunta. Quella colei possibile quel viso dipinto col carbone che strana mutazione e quello è il viso splendente luminoso che adorai alla mancia e al toboso si potrebbe parlare di pluriprospettivismo per il cavaliere veneziano ingannato dolorosamente caricaturale nello spazio ristretto di uno dei più animati ritrovi notturni della capitale lagunare dove la mascherata può avvenire anche a viso scoperto quello della Trevisana ma è tanto più sconcertante per lo straniero uomo di terraferma travolto dalle maschere. Non potendo sentire la voce della seconda battuta della sua regina il protagonista barettiano crede di sognare ma il pensiero onirico è proprio della mente di Don Quixote di fronte a qualsiasi difficoltà eppure nell'intermezzo il cavaliere si ribella alla crudeltà degli inganni di Trevisana vuole due carezze e riceve due colpi di spada di legno sulle spalle da Trufaldino a Dulcinea mi bastano queste due e comprende che questa maniera ladra di affetti non è la sua propria e neppure di Dulcinea la conclusione del duetto tra l'astrologa e Don Quixote che continua a crederla Sibilla ribadisce lo sdegno per le percorse in cui si trasformano le carezze di Dulcinea ma assume nelle battute finali una tonalità meno indispettita i due personaggi sulla scena non si riconciliano in una visione armoniosa della realtà Trevisana continua ad accusare il suo interlocutore di pazzia il capaliere ripete sotto forma di esclamazioni le sue percezioni di pena e di duol sino alla resa cara Sibilla or ch'io non merito pietà ma ci sono ancora gli ultimi tre versi perché l'intermezzo finisca no mai un'avventura si fuor di natura mai più non si vedrà sono versi cantati a due lasciando nello spettatore l'impressione di un apax filosofico e letterario in cui il duetto dall'inizio alla fine ha messo in risalto la follia di Don Quixote ma con tratti ironici e autoironici possibili forse nella messina in scena teatrale oltre che nel romanzo moderno grazie 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 grazie